Canigatini Bagni al Via, la presentazione delle domande di segnalazione danni alle produzioni agricole e agroalimentari del territorio. Il sindaco di Canigatini Bagni, Marilena Miceli, a seguito dell'incontro con l'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, invita i cittadini e le aziende a segnalare i danni subiti alle produzioni agricole e agroalimentari del territorio a seguito degli eventi meteorologici eccezionali di fino a ottobre 2021 per cui è stato chiesto lo stato di calamità. Le domande da inviare al più presto e come modelli sono scaricabili dal sito web del Comune, dal menu atti e documenti, sezione avvisi e domande, oltre alla segnalazione dei danni all'Ispettorato dell'Agricoltura per gli accertamenti ai fini dell'agevolazione del caso, sono finalizzate altresì a ottenere i previsti sgravi fiscali e contributivi propri e per eventuali lavoratori alle dipendenze, essendo indirizzate anche all'Agenzia delle Entrate e all'Inps.